Appuntamento finale a Teggiano del progetto Benessere Giovani Tanagro Opportunità Giovane nella splendida location del complesso della Santissima Pietà di Teggiano. Il progetto, promosso dalla Regione Campania e finanziato con i fondi POR Campania FSE 2014-2020, ha visto protagonisti giovani del territorio del Tanagro e del Vallo di Diano. Ad attuare la proposta progettuale sono stati i comuni di Aulette e Teggiano, attraverso diverse fasi rivolte a giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, rientranti nella cosiddetta categoria dei net, disoccupati o inoccupati, non iscritti a percorsi di studio, formazione o agli studenti. L'iniziativa ha avuto lo scopo di sensibilizzare ed accompagnare i giovani alla cultura d'impresa, alla loro autonomia e all'acquisizione di esperienze e competenze utili a favorire la loro crescita personale, la cittadinanza attiva e la conoscenza dei territori, dando spazio anche alla loro propensione artistica e creativa. Questo è un progetto che secondo me ha più elementi interessanti. Uno dei primi è il fatto di legare due realtà territoriali, due comuni, e già questo è un elemento di forza di questo progetto. L'altro elemento molto interessante è l'idea di lavorare su tre laboratori diversi. Il primo è legato al fare impresa, che è un po' la logica di benessere giovani, quindi dare vitalità a luoghi come questo, per far sì che questi luoghi raccolgano giovani che hanno forti motivazioni, motivazioni sia nella conoscenza, nell'apprendere competenze del fare impresa, e legando pure poi un secondo laboratorio, quello classico della cittadinanza attiva, dell'educazione, della cultura. Ci sono alcune parole chiave di questo progetto che mi sembrano molto interessanti. La prima parola chiave, secondo me, è il tema del turismo di comunità. Loro cercano in qualche modo, in questi titoli si cerca, di legare capitale materiale e immateriale per poter formare ragazzi e dargli l'opportunità di fare turismo, quel turismo che oggi viene chiamato un po' esperimentale. Quindi le persone amano molto, come dire, provare, esaggiare dei posti, anche attraverso la cultura del posto. E la terza tematica è un po' legata non solo alla cittadinanza attiva, ovviamente, ma anche poi al tema della pratica, cioè del laboratorio pratico, sperimentale, che significa fare impresa, imparare a crescere e il tema della responsabilità. Le attività, quando sono rivolte ai giovani, sicuramente sono fatte bene, a prescindere dai risultati. Questo è sicuramente un risultato eccezionale, perché dei progetti svolti nella regione Campania, dei pochi già arrivati al termine, è il nostro. Quindi non posso che essere soddisfatto. Soddisfatto per le attività dei ragazzi, che sono stati veramente bravi, soddisfatto per quelli di quali hanno progettato, quindi lo staff del dottore Quagliano. E' veramente soddisfatto perché vuoi collaborare con il comune di Reggiano, con la città antica, è veramente una grande soddisfazione. E poi la nostra città delle grotte, due cose così importanti, messe insieme, non possono che avere un risultato ottimo. Grazie a tutti.